Continua lo screening vaccinale di massa in Campania. Negli ultimi giorni il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, si è detto soddisfatto del lavoro svolto finora, nonostante i ritardi dovuti a dosi mai arrivate e personale sanitario sottodimensionato. Per quello che ci riguarda dobbiamo ancora recuperare 176.000 vaccini in meno che hanno mandato in Campania. Ricordiamo sempre i nostri concittadini, e su questo dovremmo essere uniti come sono uniti al Nord, che oggi la Campania è la regione più penalizzata d'Italia, perché abbiamo 15.000 dipendenti in meno rispetto alla popolazione, abbiamo la dotazione minore d'Italia del Fondo Sanitario Nazionale e adesso abbiamo aggiunto anche 176.000 vaccini in meno. Quindi quello che facciamo in Campania è un miracolo. Il Governatore ha risposto alle domande dei cronisti, ritornando sul tema delle vaccinazioni. Pfizer è stato analizzato in due settimane, non vedo perché lo stesso non si può fare con Sputnik. Il contratto è regolare e ci permetterebbe di vaccinare tutti in tre mesi, ha dichiarato De Luca, il quale su AstraZeneca dice Comprensibili i dubbi dei cittadini. La comunicazione è stata pessima, ma senza vaccini non si riapre. Intanto la Campania raggiunge quota un milione di vaccini somministrati. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile nella giornata di ieri. Di questo milione di vaccinati sono 726.000 i cittadini che hanno ricevuto la prima dose, mentre ad altri 274.000 è stata somministrata anche la seconda dose. La fetta più grande di vaccinati dal bollettino di ieri vede gli over 80 in testa per il maggior numero di dosi ricevute, quasi 300.000. Seguono quindi gli operatori sanitari e gli OSS, di poco sotto le 200.000 dosi ricevute. Restano basse le vaccinazioni tra le forze dell'ordine e soprattutto i soggetti fragili. Su 88.000 persone che hanno ricevuto la prima dose, appena 366 hanno ricevuto la seconda, che garantisce l'immunizzazione all'infezione da Covid-19, scatenata dal possibile contagio dal virus, che ancora oggi continua a viaggiare sopra la media in Campania. Solo ieri quasi 2.000 nuovi casi di contagio, con incidenza pari al 9,12%. 12%.